Gli interventi educativi nei primi anni e nei primi mesi di vita sono fondamentali per recuperare ogni svantaggio di partenza e per assicurare a tutti i bambini e le bambine pari opportunità di apprendimento. È per questo che abbiamo incardinato qui al Senato la legge 1260 ed è per questo che i principi direttivi di quel progetto di legge sono stati inseriti nella delega al governo nel provvedimento della buona scuola. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia sono importanti se hanno personale qualificato quindi è per questo che uno dei punti qualificanti di quel provvedimento e dei principi direttivi della delega è proprio quello di assicurare a tutti i bambini e bambine asili nido e scuole dell'infanzia di qualità tracciandone i livelli essenziali. E assicurare al personale che lavora nei servizi educativi e scolastici quella formazione in servizio necessaria per produrre i risultati attesi in termini di crescita, cura, apprendimento. È con questo spirito che vogliamo coinvolgere pienamente l'Istituto di Ortofonologia e chiedere quindi, augurandovi buon lavoro in queste giornate, chiedervi il vostro intervento anche nei tavoli di lavoro che faremo nelle prossime settimane cercando appunto di produrre il migliore dei provvedimenti per il bene dei bambini e delle bambine del nostro paese. Grazie. 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 Grazie.